La sensazione dell'uomo comune, forse, è anche la certezza della scienza. Qualcosa è cambiato. Lo dice la dottoressa Susanna Di Valerio, che dirige il reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Pescara. Nelle fasi iniziali della pandemia, il virus aggrediva soprattutto gli anziani. Poi, le fasce di età sono via via scese, fino a riguardare oggi anche i bimbi appena nati. Le ragioni di questo mutamento non sono ancora note. Il coronavirus ha tanti segreti da raccontare, ma è noto invece il sistema per ridurre il danno. Si chiama vaccino, dice la dottoressa, ed essendo mRNA messaggero, può essere somministrato tranquillamente a tutte le donne in gravidanza. Sicuramente qualcosa è cambiato. Noi abbiamo ricoverato tre neonati positivi al covid. Due di questi hanno avuto necessità di un'assistenza ventilatoria, hanno presentato febbre per diversi giorni. Adesso stanno andando sicuramente meglio. Però queste situazioni non le avevamo assolutamente viste nella prima ondata pandemica. Nella prima ondata pandemica abbiamo avuto un incremento delle nascite premature da madri covid positive, ma non avevamo neanche mai avuto da madri covid positive neonati covid positivi. Invece adesso abbiamo avuto anche questa situazione. Sicuramente questa fascia di età adesso è colpita come non era colpita nella prima fase pandemica. Quindi è bene tutelare quelle che sono le popolazioni più fragili. Si dice sempre che noi inseguiamo il virus. Per la verità in questo caso mi sembra quasi che il virus si insegua noi. Dove andiamo a proteggere la fascia d'età e lasciando scoperta una certa età arriva e colpisce. Allora lei dice intanto vaccinatevi, ma le chiedo, al di là del fatto che avete già detto che la vaccinazione non è pericolosa, vaccinando la donna in gravidanza, quindi che non ancora partorisce, protegge e in che modo tutela anche il proprio figlio? Assolutamente protegge, protegge la donna da quelli che sono le problematiche importanti della patologia da SARS-CoV-2 e naturalmente protegge anche il neonato perché a rientro a casa una donna vaccinata, un papà vaccinato, un entourage familiare vaccinato, naturalmente hanno una minor possibilità di infettare il neonato. Una leggenda metropolitana, secondo lei il fatto che, una brutta leggenda metropolitana, il fatto che i bambini possono risentire, i bambini contagiati dal Covid non tanto sul momento ma in seguito, anche dopo qualche anno, che può dare dei problemi? Non lo possiamo dire, è troppo presto, è una malattia molto giovane. Sicuramente però questi bambini andranno controllati e anche nel reparto di terapia intensiva neonatale di Pescara abbiamo un protocollo per cui verranno controllati da un punto di vista neurologico, da un punto di vista oxologico, assieme alla neuropsichiatria infantile del professor Cerbo abbiamo proprio un'equip dedicata per vedere che cosa veramente è accaduto. In questo momento non lo possiamo dire.